La polizia ha fatto piena luce su un vero e proprio agguato avvenuto il 22 agosto scorso in pieno centro a Taranto in via Dante all'angolo con via Nettuno. Si trattò di un regolamento di conti probabilmente nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti. Uno scooter con in sella due persone affiancò un Opel Meriva e furono esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. In poco tempo quello che sembrava un semplice incidente poi si rivelò un vero e proprio agguato. All'alba di oggi sono state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare, due in carcere, due ai domiciliari. Le accuse sono di tentate lesioni gravi, detenzione, porto in luogo pubblico di arma da sparo, evasione, detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma le indagini non sono finite come sottolinea il dottor Di Maggio della questura di Taranto e potrebbero riservare ulteriori sorprese. Il dottor Di Maggio il movente potrebbe essere legato ad affari di mala nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti. Sì, allora diciamo che questo è un episodio grave che ha interessato il nostro capoluogo e al quale abbiamo fornito una risposta in tempi brevi, in tempi stretti, grazie alla prontezza dei nostri investigatori che nel giro di poche ore sono riusciti a raccogliere elementi fondamentali per il proseguo dell'attività di indagini. Con riferimento al movente riteniamo con un certo grado di sicurezza che lo stesso sia riconducibile a un regolamento di conti nell'ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L'impressione è che questo episodio abbia innescato una serie di indagini che non sarebbero ancora concluse, pertanto ci dobbiamo aspettare novità? L'impressione è corretta e quindi speriamo di potervi dare al più presto altre buone notizie. risalire agli intestatati e agli...